Per me, secondo step, non c'è carne, puttana miseria Preparazione a base di soia con zucchero e del colorante Non c'è la carne, non ti regalano la carne, no? Vabbè, posso vedere Intanto lo apro, siccome c'è un altro sacchetto, poi ti lascio la confezione e tu ci giochi Ci giochi Ti è Tu giochi con la confezione Oh, questo è tofu Alle spezie, com'era? Alogene È tipo spicy alogeno Che secondo me vuol dire tipo fiery hot Per me vuol dire piccante Vuol dire tipo flaming hot Sì, è tipo flaming hot secondo me Qui c'è la porchettina Assaggeremo anche questo Io li ho già assaggiati 6.000 volte Quindi per me non ero Ah, ma sono umidi Assaggi tu Vai Vai A me piace andare a morire Lui farà delle gran facce Buonissime Questo è il più buono di tutti, cavoli Non ho mai preso questo gusto alogeno Non è male Non è alogeno, vuol dire flaming Ma non è piccante Non è piccante Nessuno di questi è piccante Cioè Tipo uno su dieci Uno su dieci Piccherà Pensavo fosse più saporito in effetti No, no, questo no Ce ne sono altri Non è male però C'è tipo di carne Sembra carne Anche la consistenza Sembrano straccetti Però è un po' piccante È tipo È a metà È a metà È a metà fra un brusque Che sa di poco Non è affumicato Sì, per me c'è dell'affumicato Certo che c'è È a metà fra Cioè Non sa di tofu Cioè Si sente che è tofu Ma non 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 viene fuori molto Il sapore di tofu Ah no A me piace Per quello il tofu essiccato Perché non sa di tofu Però Mi pensavo fosse secco No Cioè Pensavo fosse essiccato Tipo croccante No, no, sono più un po' umili Con il sapore Non è che mi entusiasma Com'è Il fatto che è Umido Com'è Non lo mangerei così com'è Cioè È buono Mi piace Non dirà mai che mi piace Mi piace Ciao a tutti Mi piace